Il leader della Lega inaugura Frosinone la sede provinciale del partito. I temi nazionali. La polemica sui vaccini pericolosi per i giovani. La ciociaria, una terra laboriosa. Tentano di portarlo sulla polemica per il biogas. Salvini, i rifiuti sono una risorsa, non un problema. Sì agli impianti. Se qualcuno si aspettava una rivendicazione per la candidatura del sindaco di Frosinone alla Lega se n'è andato deluso. Chi sperava in un annuncio per le prossime regionali in favore di Claudio Durigon, ha atteso in vano. Matteo Salvini è venuto a Frosinone ufficialmente per tirare la volata alla raccolta di firme sul referendum. Ma nella realtà il capitano ha cominciato ad affrontare un territorio nel quale Fratelli d'Italia sta crescendo, prendendo consiglieri, guadagnando assessori. E li sta sfilando proprio al carroccio. L'ultimo in ordine di tempo ad avere attraversato le linee del centro-destra è stato questa mattina l'ex capogruppo leghista al comune di Cassino Franco-Evangelista. Leggi qui Evangelista abbraccia i fratelli. Ma non fa gruppo. L'appuntamento è nella piazza accanto al Monte dei Paschi di Siena, a due passi dall'alberata di Frosinone. C'è gente, non la folla dei giorni migliori. Anche perché è luglio inoltrato, c'è un caldo infernale e l'appuntamento è per le tre del pomeriggio. C'è la sezione provinciale cittadina della Lega da inaugurare. Il partito torna ad avere un suo luogo istituzionale di confronto. La faccenda del nastro da tagliare si sbriga in un attimo. Il capitano sa che la in cassa mediatica è un'altra. I temi sono quelli nazionali. Si parte dal DDL ZAN. Ognuno è libero di amare chi vuole, ma togliamo i bambini delle scuole elementari dallo scontro politico. E vediamo come finisce la vicenda di questo benedetto DDL ZAN. Grazie.